A margine dell'inaugurazione del ridotto del Politeama, il sindaco Sergio Abramo, sollecitato sull'argomento, ha dedicato un passaggio al momento politico-amministrativo che, secondo parecchi indicatori, prelude a qualche nuovo aggiustamento nel pacchetto dell'esecutivo. La giunta, al di là di quello che realizzeremo, di quello che cambieremo in giunta, se la cambieremo, però il programma è ormai già quasi tutto realizzato, quindi credo che alla fine dell'anno porteremo l'attenzione della città alle cose che abbiamo fatto, perché una cosa è scriverle su un libricino e propagandarle, un'altra cosa è vederle realizzate. Diciamo che da qui a poco avremo tante di quelle inaugurazioni, a giugno abbiamo il lungomare di Lido, a settembre avremo il pacco Il Gaslini, a fine anno avremo la scuola Mazzini pronta, sarà pronto anche l'Educandato, che è uno dei palazzi più belli che abbiamo nel centro storico, quindi avremo una marea di opere che saranno terminate. Il film festival cambia sede o no? A me piacerebbe farlo in questo bellissimo piazzale di 8.000 m2 che stiamo pavimentando nel porto di Catanzaro Lido, perché è un'atmosfera veramente bella, ma subito, perché stanno adesso cominciando, hanno ritirato intanto la pavimentazione dopo una scelta fatta con i direttori dei lavori e credo che fra una quindicina di giorni inizieranno a pavimentare, quindi credo riusciremo ad averlo per fine luglio quando ci sarà il Magna Grecia Film Festival, ma anche se non dovesse essere finito tutto, è così grande che inizieremo a farne un grosso pezzo e lì faremo comunque il Magna Grecia Film Festival. Conferma l'arruolamento di Pascuzzo per l'estate catanzarese? Mi pare che ci sia stato grande entusiasmo a novembre e dicembre per quello che è riuscito a organizzare, quindi gli abbiamo dato questo incarico di far rivivere la città anche dal mese giugno, luglio e agosto, compreso il centro storico questa volta, oltre che Catanzaro Lido, e quindi è già al lavoro. Il giorno 20 presenterà un programma perché quest'anno vorremmo fare qualcosa in più rispetto all'anno precedente, quindi poi tutto sommato non per presunzione ma credo che siamo l'unica città che organizza eventi, perché siamo l'unica città, capisco che è poco percepibile dai catanzaresi, però siamo l'unica amministrazione a aver provato il bilancio, il che significa che abbiamo i conti a posto. Abbiamo anche qualcosina da parte, oltre che a sostenere il mondo del sociale, abbiamo qualcosa da parte anche per far divertire i catanzaresi perché è anche giusto. Abbiamo amministrato bene, su questo nessuno ci può dire assolutamente niente dal punto di vista amministrativo.